e scusa quando noi lasciamo questo corpo il nostro spirito la nostra anno il nostro spirito è sbagliato la nostra anima no è sbagliato noi non abbiamo uno spirito noi siamo lo spirito abituatevi a ragionare in questo senso noi siamo lo spirito che ha un corpo cioè io sono l'autista che c'è una opel non sono la opel che c'è un autista quindi abituiamoci perché quel diritto perché scusa chiara lo voglio quel modo di ragionare è una manipolazione di satana che ci scende dalla nostra reale senza quindi noi non siamo un corpo che noi non abbiamo uno spirito noi siamo lo spirito noi abbiamo un corpo il momento spirito quando lascia questo questo corpo doveva a finire esiste un altro mondo dove quando lasci questo corpo non il tuo spirito quando lasci il nostro spirito sei tu quindi tu quando lasci questo questo corpo c'è una scena molto bella questa ve la racconto il contattista italiano giorgio di bitonto viene contattato negli anni 80 dallo stesso gruppo di esseri che contatto l'americano giorgio adamski solo che ad adamsi essendo in tempi diciamo ancora prematuri e non avendo adamski questa missione si presentano come extraterrestri ma erano gli angeli c'erano raffaele gabriele era sta gente qui invece a di bitonto gli dicono si presentano con gli stessi nomi fircon ramu calna orton che usava adamski ma gli dicono io sono michele io sono raffaele quello è eccetera gli spiegano e si rivelano come angeli della bibbia e in un incontro gli fanno vedere ci adesso ti facciamo vedere una cosa dentro l'astronave e proiettano una scena che è la morte di un essere umano di bitonto chiede dice ma cos'è una registrazione no dice sta accadendo adesso noi la stiamo proiettando ma era una visione reale c'è come se stesse accadendo lì e si vede sta sala d'ospedale con sto persona malata anziana che sta per morire e intorno c'è i suoi parenti tutti no addolorati chi piange eccetera eccetera a un certo punto di bitonto vede che questo signore muore quindi pianti parenti e nel momento che muore subito dal corpo esce lo spirito gli escono i 21 grammi e esce dal corpo si mette in piedi ed è spiccicato uguale al corpo che sta sulla sul letto e spa esato perché ovviamente nella sua vita aveva pensato sempre il corpo e quindi un attimo sta lì e vede i parenti che piangono allora lui cerca di toccarli e di dire guardate che sono vivo sto bene anzi non non soffro più e però ci passa attraverso il che lo sconcerta ancora di più mentre lì che non sa bene che pesci pigliare nella stanza si apre una porta e incominciano arrivare i parenti gli amici che erano morti prima di lui ma sono tutti belli freschi felici e giovani appena lui li vede gioisce e gli abbraccia quindi la loro materia si tocca non passano attraverso l'uno dell'altro c'è quella materia è solidale cioè si toccano sono della stessa frequenza vibratoria quindi si toccano quindi si abbracciano si fanno le feste e di bitonto vede scioccato che in questo breve frangente quel signore che aveva oltre 70 anni già era ringiovanito di quasi 40 anni c'è la sua materia animica si riconforma e ringiovanisce e quindi quest'uomo appena morto ma già bello di nuovo ringiovanito se ne va tutto allegro e felice si gira un ultima volta e poi entra in questa porta che si richiude e se ne vago i suoi parenti e i suoi amici ci vedi questa è la morte che voi tanto tenete ma ovviamente se noi siamo degli scimmioni ignoranti come facciamo a prepararci a questo evento perché dopo per coloro che nella vita hanno fatto cose molto brutte che ti viene a prendere sono i demoni altro che i parenti e gli amici ti vengono a prendere diavoli questo c'è nel film ghost vedetevelo perché quella è la verità ti vengono a prendere i demoni ti trascinano all'inferno che ti piaccia o meno quindi questo mistero questo velo di ignoranza assurda allucinante assolutamente inaccettabile che c'è su una condizione normalissima si muore si nasce tutti i santi giorni quale stai maligna ipnosi che non ci fa mai porre seriamente di fronte alla nostra morte e noi la evitiamo come se la morte fosse una malattia lo spirito quando esce dal corpo quando io uscirò da questo corpo sai cosa farò chiara così finita non ne potevo più perché lo spirito se era cieco vede se aveva handicap esce sano se era muto parla se la sordo sente la morte eugenio ci diceva se l'uomo comprendesse che cos'è la morte l'umanità si sparerebbe in testa in massa pur di arrivare subito lì per quanto si sta bene ma si sta bene solo se noi entriamo in armonia con la legge siccome satana ha tessuto questa diabolica trama di inganno ed ipnosi che ci tiene fermi su un sacco di stronzate visto che moriamo e lasciamo tutto fino all'ultimo cento manco un centesimo che pesa poco ci portiamo via e noi lì a costruire case ville con timbanca 50 automobili 40 biciclette è una follia è una follia noi l'incarnazione è un breve momento della lunghissima vita che noi facciamo di là c'è la nostra condizione naturale non è questa la reincarnazione al contrario noi dobbiamo temere quando ci incarniamo è la morte della nostra identità spirituale la nostra vita è di là e quella vita è molto più reale di queste molto più vera più viva non dobbiamo lavorare non ci abbiamo bisogno di soldi non ci ammaliamo non sentiamo freddo non sentiamo caldo c'è la goduria ma dobbiamo conformarci alla legge se non la legge ci castiga perché è giusto non perché dobbiamo essere puniti ma perché quando noi violiamo la regge stiamo creando sofferenza alla creazione ai nostri simili quindi perché se dio ci ha dato gratis sto pianeta trasformiamolo in un cacchio di bellissimo parco giochi e godiamocela come maiali chi ce lo vieta solo la nostra la nostra nemmeno il nostro non fare nulla è una rinuncia a essere felici non essere felici noi rinunciamo consapevolmente alla nostra felicità pur avendo davanti chi sono i veri fautori dell'infelicità del mondo sti delinquenti che ci governano dobbiamo cacciare ma non andare lì con la violenza basta non comprargli più nulla cioè rifiutiamo tutto quello che loro ci offrono non glielo compriamo più se facciamo questo semplice atto di disobbedienza non mi interessa quello che vi vendete faccio altro vi vendete lo gm non lo compro vado dal contadino vi vendete le tette di plastica non le voglio vi vendete l'uomo col bottulino e col pene maggiorato non lo voglio questo disobbedire non vuol dire andare a chiedere a loro ciò che già ci appartiene noi invece pensiamo cretini facciamo le proteste chiedendo loro ciò che già è nostro ma loro non hanno nessuna autorità per darci qualcosa non hanno mai posseduto niente e noi che volontariamente glielo andiamo a portare basta non portarglielo più è finita stiamo un mese noi italiani in casa un mese a giocare a videogiochi senza fare comprare più nulla non andiamo lavoro non paghiamo le tasse la bolletta teniamo accendiamo candele niente energia elettrica li abbiamo messi a culo a terra non abbiamo bisogno di movimenti politici partito vuol dire diviso divide e ti impera le parole hanno un senso profondo se noi le analizziamo ma siccome siamo in questa ipnosi diabolica diamo importanza cose che sono sciocche stupide anzi sono contro la nostra dignità questo mi fa diventare matto ma io capisco perché anche io ero uno dei tanti matti che buttava via la sua vita incazzate fortuna è venuto sto signore che si è incarnato dio la bian gloria visto che eugenio è passato a miglior vita nel 2006 ma è stato un grandioso atto d'amore quello di eugenio lui ha sacrificato tutta la sua vita dai 33 anni in poi per cercare di portare al mondo questa sublime e favolosa conoscenza che libera le anime a me ma liberato e nel tempo io mi sono riappropriato del 100 per cento del mio tempo che dedico a servire questi esseri